Buonasera a tutti, sono contento e orgoglioso di aver partecipato e di essere stato nella rosa dei premiati per questo premio che ragazzo di Tarsi, che è un premio prestigioso che è già arrivato alla 29esima edizione. Il tema ha suscitato in me particolare interesse perché la figura di Nicola Misasi secondo me andrebbe rivalutata a livello nazionale perché dovrebbe occupare un posto di rievo nella storia della territoria nazionale, in quanto Nicola Misasi si può accostare a tutti i grandi veristi, a tutti i grandi romantici ed è stato anche un grande meridionalista, cioè ha cercato di elevare sempre attraverso i suoi romanzi le popolazioni meridionali che vivevano in condizioni disagiate, in condizioni non buone. Quindi di Nicola Misasi ha rappresentato per la letteratura calabrese un volano anche di orgoglio e ha rappresentato molto per questa terra.